SORRIDA! Vorrei dare un caloroso benvenuto a tutti voi. Potrete decidere tramite voto se prendere il premio in denaro accumulato. E così, lasciare questo posto. Quella cos'è? Un, due, tre... STELLA! Fermi! Cos'è? Un'ape sul collo. Un'ape! Cazzo! Cazzo, mi sono mossa! La decisione ultima. Se continuare il gioco per ottenere un premio maggiore o fermarvi qui è interamente nelle vostre mani. Non potete fare questo. Dobbiamo andare via da qui. Ma che credi di fare? Sei uno di loro? Io a questi giochi ho già partecipato! Di questo posto saremo tutti morti! E tu allora perché sei tornato qua? Uno in più! 者 in più! Frazi, voli! Uralvio! Ciao! Uralvio! 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 So! No!